ciao a tutti ben ritrovati con fp luxury watches siamo qui in piazza libertà 15 a saronno vi ricordo a tutti quanti di seguirci ovviamente durante le nostre trasmissioni ma anche di iscrivervi ai nostri canali youtube instagram poi adesso vedrete in sovraimpressione tutti gli avvisi per seguirli cosa importante il nostro numero di telefono lo vedete anche lui in sovraimpressione sia il numero fisso il numero di cellulare attenzione il numero di cellulare utilizzatelo soprattutto per inviare le foto di orologi o comunque di magari per fare delle per valutare per mandare delle foto per fare delle valutazioni piuttosto che delle informazioni e sul fisso perché sul cellulare non rispondiamo sempre invece sul fisso risponderà sempre qualcuno detto questo vi consigliamo sempre di fissare magari un appuntamento prima di venire qui non devi evitare magari di aspettare fuori troppo tempo nel negozio e nulla in questa giornata vi presenteremo una serie di orologi e toccheremo come al solito alcuni argomenti interessanti prima di farvi vedere qualcosa mi preme fare un'altra presentazione la presentazione voglio fare oggi già lo conoscete per chi non lo conosce è il nostro laboratorio di riparazioni e signori molti mi dicono ma come mai devo riparare devo devo revisionare l'orologio se funziona e questa è una domanda alla quale ho risposto tante volte ma è sempre bene ripeterlo non dovete aspettare che l'orologio si fermi se l'orologio si ferma uno spendete più soldi due potete creare dei danni delle volte anche irreparabili e tre se l'orologio una macchina se la usate tutto l'anno funziona 365 giorni l'anno e ma io l'orologio non lo uso lo uso due tre volte all'anno lo tengo in cassetta di sicurezza non vuol dire nulla andate giù in cassetta di sicurezza almeno due volte all'anno fatelo partire perché all'interno ci sono degli oli e delle guarnizioni questi nel tempo si vanno a seccare e quindi cosa succede se si vanno a seccare nel tempo magari si è fortunati non generano nessun problema ma magari un certo punto l'orologio lo provate dice ma come mai non va oppure cacchio si è inchiodato non funziona più ecco questo serve ad evitare il problema come quando voi in macchina avete le spie accese e tutti vanno a fare i tagliandi insomma vai dal meccanico magari quando la spia ti si accende ecco noi dovremmo evitare questo dovremmo prevenire questi problemi la visione va fatta ogni 3 4 anni approfittatene delle nostre promozioni sulle revisioni quindi il solo tempo per esempio come un submariner un de just oggi hanno un costo di 350 euro che credetemi è un costo molto contenuto ma davvero molto contenuto perché normalmente una revisione per un solo tempo come questi costa oltre i 700 800 euro noi 350 euro salvo imprevisti su ordinazioni di pezzi di ricambio ovviamente solo esclusivamente originali in due tre settimane ve lo consegniamo l'orologio siccome molti non capiscono il lavoro il grande lavoro che c'è dietro noi abbiamo aggiunto questo servizio che qualcuno di voi già lo conosce che è unico è unico non lo fa nessuno è quello di fare la revisione assistita con il tecnico laboratorio si fissa un appuntamento si arriva qui al mattino si va di là in laboratorio con i nostri tecnici e si sta davanti al banchetto del tecnico si fanno domande foto viene spiegato questo passaggio quest'altro passaggio la revisione assistita un costo di 100 euro aggiuntivo rispetto a quelli che vedete in sovraimpressione o sotto somma pubblicati qui però tenete anche conto che questa può essere un'idea regalo proprio parlando di idee regalo e poi partiamo con la selezione di orologi e cosa cosa possiamo proporre abbiamo i quadretti famosi quadretti che produciamo qui in fp luxury watches sono dei quadretti personalizzati 50 euro se te che sei un collezionista vuoi un bel quadro appeso nel tuo ufficio o in camera o in sala del tuo orologio quindi non uno preso da internet del tuo orologio vini qua si fissa un appuntamento facciamo una serie di fotografie professionali che tra parentesi possiamo anche farle per perizie piuttosto che per altre cose e nel giro di sette giorni noi ti consegniamo poi il tuo quadro personalizzato con la cornice da appendere senza martellare fare danni sulle pareti perché ci sono degli adesivi appositi per le pareti che non rovinano la parete detto questo l'ultima idea a regalo che vi propongo quest'oggi e poi partiamo vedete vi faccio vedere anche qui un orologio in questo caso stiamo parlando del ghiera verde ecco vedete lo sto indicando col dito qui abbiamo una piccola clip con una lettera la g queste sono un'ottima idea regalo sono delle clip realizzate in questo caso l'orologio è in acciaio sono in oro bianco con smeraldi e possiamo fare con diamanti con rubini con tutte le lettere che volete abbiamo una serie di simboli una serie di anche adesso vedete è montata sul bracciale oyster ma lo possiamo tranquillamente anche montare su un bracciale giubilè bracciale giubilè è questo qua giusto per farvi intendere quindi lo possiamo montare anche su questo e questa cosa è anche qui un'idea regalo perché perché volete regalare la lettera al vostro uomo al vostro marito al vostro ragazzo o la vostra ragazza delle proprie iniziali lo possiamo fare insomma c'è l'infinità di una scelta venite qui abbiamo un catalogo completo la scegliamo insieme se l'abbiamo disponibile immediatamente altrimenti in 48 72 ore al massimo ce li abbiamo in negozio passiamo alla visione di qualche orologio allora partiamo da vediamo perché partiamo da rolex per esempio va bene allora adesso vi faccio vedere questo è selezione dei just quindi cassa 36 mm un bell'orologio quadrante nero vetro zaffiro bracciale giubilè li abbiamo con il bracciale oyster la ghiera è zirinata in oro bianco vi piace quella liscia lo abbiamo anche con la ghiera liscia sempre di questa collezione per giusto per darvi come dire un altri esempi vi faccio vedere altri dei just per esempio lo abbiamo con il quadrante salmone e i numeri romani adesso non lo qui ma lo abbiamo anche col quadrante bianco li abbiamo veramente di tutti i colori ce ne abbiamo un'infinità questi sono tutti orologi interessanti e oggi con scatole documenti revisionati sono orologi che proponiamo a 7000 euro poi ce n'è qualcuno a 6500 ce n'è qualcuno a 7200 a seconda delle particolarità e le rarità del quadrante poi se volete qualcosa di un pochino più particolare stando sempre su the just e abbiamo per esempio con i quadranti in diamanti attenzione molti mi dicono ma io l'ho visto con diamanti a 6.000 euro ecco 99 su 100 quel quadrante aftermarket qui i quadranti sono originali quindi di produzione rolex con i diamanti di produzione rolex in questo caso ne stiamo vedendo uno bellissimo sempre col bracciale giubilè sempre con la ghiera zigrinata quadrante blu soleil vedete blu soleil vuol dire vedete questo fascio di luce che cambiano da un blu più chiaro a scuro ecco questa seconda della della tonalità della luce in arrivo sul quadrante ecco cambia colore ecco questo molto bello grande elegante classico sempre stando sui diamanti lo abbiamo per esempio ne faccio vedere uno con il quadrante nero sempre con diamanti sempre con la ghiera zigrinata in oro bianco molto bello ecco per esempio questi qui non li proponiamo a partire da 7500 euro tutti i orologi con scatola documenti ufficiali dell'epoca più nostra garanzia più revisione effettuata quindi per 3 4 anni non dovete pensare a nulla orologi garantiti questo caso lo abbiamo con un quadrante silver soleil bellissimo anche qui con diamanti era zigrinata e invece stando vetro zaffino invece per gli amanti magari del vintage stando sempre sui the just possiamo farvi vedere invece vetro i vetro plexi vetro plexi in questo caso abbiamo un acciaio oro la referenza è a 16 013 un orologio degli anni 70 con scatola i documenti dell'epoca quindi completissimo quadrante di questo blu bellissimo che dona anche un bel contrasto tra tra loro il blu insomma del quadrante poi abbiamo sempre stando sul vintage quindi ricordatevi vintage vetro plastica quindi hanno più di 30 40 anni gli orologi ecco questo invece è un 16 0 14 quindi ha già uno scatto rapido ghiera zigrinata in oro bianco in questo caso lo vediamo col bracciale oyster però volete col bracciale giubile mettiamo il bracciale giubile non è non è un problema ecco stando così anche per vedere qualcosa come dire anche un'altra idea regalo può essere quella di comprare degli orologi succede spesso il negozio qui che il marito e la moglie o i fidanzati insomma si comprano degli orologi coordinati cosa vuol dire coordinati simili faccio vi faccio vedere in questo caso un esempio concreto ecco qui abbiamo in questo caso abbiamo questa la collezione oyster perpetual state di queste colorazioni particolari un verde laccato un orologio ancora l'ultimo in produzione delle colorazioni special che ha fatto rolex nel 2020 quadrante in questo caso lo vedete verde ma è stato fatto anche in quadranti giallo rosso azzurro chiamato tiffany e poi al di là del silver blu e il nero ma questi colori colorati sono già particolari sono già andati fuori produzione questo è l'unico attualmente in produzione quindi anche interessante come come forma di investimento in questo caso lo abbiamo da 41 mm e per un polso femminile misura da 31 mm ed è anche bello magari fare un acquisto coordinato in questa in questa maniera adesso purtroppo vi devo salutare vi invito nuovamente a inviarci dei messaggi con le foto dei vostri orologi per le valutazioni quindi sul numero che vedete qui sotto su whatsapp ci mandate le foto e noi facciamo la valutazione cercate un orologio particolare ci scrivete via non avete whatsapp ci mandate una mail o chiamate sul numero fisso noi siamo aperti dal martedì al sabato quindi lunedì se non rispondiamo perché siamo chiusi la domenica altrettanto se vedete la trasmissione replica alle 3 del mattino è inutile che chiamate perché siamo in replica quindi lasciate un messaggio in segreteria al massimo però non vi arrabbiate se non rispondiamo e cosa importante iscrivetevi ai nostri canali instagram iscrivetevi al nostro canale youtube rimanete sintonizzati con noi perché insomma come sapete proponiamo sempre cose interessanti e non aspettare adesso domani chiama subito e fissa l'appuntamento per visionare il tuo orologio perché se no quando chiamerai piangerai perché magari dovrei spendere un po di più vi saluto e alla prossima ciao da francesco